Siamo con Loretta Manocchi di Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra a favore della candidatura di Luca Serfilippi, sindaco. Come mai ha deciso di scendere in campo? Ho deciso di scendere in campo per la forte volontà di, con determinazione, serietà, concretezza e preparazione, cercare di ridare un impulso forte alla città di Fano. Ha un potenziale straordinario sotto ogni profilo, da un punto di vista turistico, da un punto di vista commerciale, da un punto di vista culturale, sportivo e chi più ne ha più ne metta. Credo davvero che sia necessario dare la spinta giusta, l'impulso giusto, con delle nuove energie, con una nuova volontà. Credo che Luca Serfilippi, candidato sindaco della coalizione e tutta la coalizione, abbiano davvero i requisiti e gli elementi per dare questa nuova linfa. Quindi credo davvero in questo progetto e ritengo che possiamo fare la differenza. Restituire a Fano il suo valore, quindi il valore che merita. Questo è il suo obiettivo principale. Quali sono i suoi punti di forza? Indubbiamente tutto passa per quello che la città rappresenta e un po' il biglietto da visita della città stessa. Passa per il decoro, passa per la sicurezza, per la possibilità di parcheggiare, per dell'attività commerciale e turistica di rilievo. Penso al porto, a tutte le azioni che sono necessarie mettere in campo, intraprendere una serie di azionati importanti. Non posso non immaginare anche delle azioni rivolte ai ragazzi, ai giovani, tali da coinvolgerli e da metterli al centro dell'attività amministrativa di Fano. Non posso non tralasciare l'ascolto. La diretta concertazione, il confronto continuo con tutte le categorie, con tutto il sussuto sociale, fanno sì che un'amministrazione in alcun modo può sbagliare, perché soltanto attraverso l'ascolto e la massima partecipazione saranno scelte condivise, con una strategia lungimirante, con una strategia ben concreta e con un metodo. Non è immaginabile che si fanno delle azioni fine a se stesse. È necessario individuare l'obiettivo da perseguire. E questo è il nostro impegno in tal senso. Cosa devono aspettarsi i cittadini da lei alle prossime elezioni? Devono aspettarsi un grande impegno. Devono darci fiducia per ridare quell'energia di cui questa città ha fortemente bisogno.